Dopo i casi di Roccadaspide e di Capaccio Pestum, riscontrato un nuovo contagio da coronavirus nel Cilento, questa volta a Casalvelino. Si tratta di un'anziana donna che lo scorso sabato sera è stata ricoverata per alcuni accertamenti al San Luca di Vallo della Lucania, ma gli esami di rito hanno evidenziato la sua positività al Covid ed ieri mattina l'esito positivo del tampone. Come fa sapere il sindaco di Casalvelino, Silvia Pisapia, l'asla ha già provveduto a ricostruire la catena dei contatti della donna e ad attuare i provvedimenti del caso. Buone notizie invece per il personale medico del San Luca di Vallo della Lucania, che nel frattempo era stato sottoposto in via del tutto precauzionale a tampone. I risultati dei test sono tutti negativi. Sabato l'abbiamo dovuta portare in ospedale per dei problemi intestinali e come da prassi tutti i pazienti che vengono ricoverati devono sottoporsi a tampone. A scriverlo sulla pagina Facebook della sua attività commerciale, il figlio, nonostante fosse totalmente asintomatica, sottolinea il figlio, è stata trovata positiva al Covid. Per assicurare adesso tutti gli amici, conoscenti, parenti e clienti, appena abbiamo ricevuto questa notizia ci siamo messi in isolamento e che tutta la nostra famiglia, che da sempre è stata vicina a nostra madre, non accusa nessun sintomo e siamo in attesa del tampone di rito di tutti noi che le siamo stati vicini. Per assicurare ulteriormente alcuni nostri parenti che sono stati a nostro stretto contatto, ma non a contatto diretto con mia mamma, continua il figlio dell'81enne, hanno già provveduto ad effettuare il test sierologico e sono risultati tutti negativi. Una maggiore rassicurazione per i nostri clienti, come avrete sicuramente potuto constatare in questi mesi, la ricambio Bertolini ha osservato scrupolosamente le normative anti-covid-19, utilizzando sempre mascherine FFP2, barriere in plexiglass, gel igienizzante per la propria tutela e per quella dei propri clienti. Ci scusiamo e siamo addolorati per il disagio e la preoccupazione che vi stiamo arrecando, conclude nella sua lettera l'uomo. Appena arriveranno i risultati dei tamponi, sarà mia cura informarvi sull'esito.